Claudio, Gabriele e il grande cameraman e il grande zio Stefano sono qui con noi questa sera ragazzi sono dando vita ad una festa monstruosa ragazzi questa sera daremo tutto, tutto, tutti i nostri averi daremo questa sera perché questa sera sarà una grande sera ragazzi sarà una big, big, big night grazie a tutti